Per il messaggio di lavoro dei prossimi sei mesi dobbiamo acquisire la maestria nel embodiment, ossia nel incorporare, incarnare ciò che vogliamo realizzare, di essere ancora più presenti, di essere ancora più radicati, più del solito. Da che cosa ci accorgiamo, da che cosa sarà stimolato questo lavoro? Questo sarà la sensazione di solitudine e di un vuoto interiore. Andiamo a cercare uno spazio sacro all'interno di noi, andiamo ad allargare questo spazio per creare una corrente energetica molto potente che ci aiuterà ad espanderci e che ci aiuterà nei nostri processi creativi, nelle nostre manifestazioni.